Il capo equipaggio della motorvedetta SAR, il SAR sta a fare il search and the rest, la salvaguardia della vicomagna in mare, è uno dei tanti compiti che la guardia costiera svolge. Se voi vedete io sono, oltre ad essere il capo equipaggio, ho due collaboratori, uno è Prete G7 che si occupa per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Due nodi, è quindi un mezzo adatto a fare l'attività di polizia. Invece questa barca che vedete si chiama SARCY P878, è una barca che nasce e è stata costruita per i soccorsi in mare e ha una caratteristica unica, questa barca si definisce ogni tempo, nel senso che è autoraddente.